53 Roma 18 maggio 1948 Carissimo Fr. Raffaele Giuseppe Ti ringrazio anche a nome di mamma, auguri fatti a me e a lei 55 anni compiuti, ci avviamo verso i 60 Tu mi domandi notizie e eventuale nomina prefetto Lascio fare la provvidenza Non so come mi troverei e che cosa mi potrebbe succedere D'altra parte non mi garantirebbe nessuno la stabilità all'attuale posto Qualora facessi una formale rinuncia a quello di prefetto Qualora mi venisse offerto Quindi lascio fare al Signore Mamma si sente molto stanca Però d'aspetto sta bene Nonna si è ristabilita Però un po' di tosse Un po' di tosse anche si agilda Molta tosse è la Signora Castrucci che ha ripreso a venire la sera Si è guarita operazione cataratta agli occhi Leonardo preso nove matematica, studia Domenica faccio lettura a lui Ho incominciato un libretto di teologia dogmatica scritto in latino dal Tancaré Sinopsis teologia dogmatice Che io traduco nel momento stesso di leggerlo Leggendolo in italiano Così spero di aiutarla a formarsi una cultura religiosa proporzionata alla cultura profana Teresa è un po' distratta, amichette, Valentina, Dara Un po' cosegue mamma quando va da Roberto e Francesco Francesco è stato un po' indisposto Ora ristabilito A Teresa faccio lettura domenicale Catechismo quinta elementare Avete letto la terribile guerra in Terra Santa? Preghiamo il Signore che ridia la pace Pare impossibile che dopo venti secoli di cristianesimo Maomettani ed ebrei possono far campo di battaglia nel paese di Gesù O sei che è l'ottimo Padre Maestro Che noi sempre tanto ricordiamo L'ottimo Padre Priore Tutti i padri, tutti i novizi A te la santa benedizione da papà Grazie a tutti